non servono attrezzi particolari né forza fisica per montare le catene da neve è un'operazione che può essere eseguita in meno di cinque minuti guardare per credere le catene sono due ma le ruote quattro su quali bisogna montarle è molto semplice bisogna seguire la trazione se l'auto è a trazione anteriore le catene andranno messe nelle ruote davanti se a trazione posteriore nelle ruote di dietro in caso di trazione integrale bisogna guardare il libretto e capire qual è l'asse che riceve la maggiore quantità di coppia finizio a stendendo la catena per terra avendo cura che non sia aggrovigliata a questo punto prendete l'estremità del cavo sollevatele sulla parte anteriore della ruota e agganciatele agganciare poi il gancio piatto alla maglia della catena laterale quella colorata e portare il cavo all'interno della ruota a questo punto bisogna prendere la maniglia e farla passare all'interno del dispositivo di bloccaggio tendere bene la catenella di tensione è agganciarla nei dispositivi autobloccanti una volta finito procedete per un centinaio di metri dopodiché fermatevi assicuratevi che le catene siano ancora al loro posto e il gioco è fatto a presto a presto Grazie a tutti.